A Trebb è offerto da Formaggi gelati di Romagna La bontà che lascia traccia FAMBatterie Via Cardi 1 Meldola e nei negozi specializzati FAMBatterie.it A Trebb è il numero 985 Il 2 aprile, Coronello, faremo mille puntate Guinness dei primati Nelle tv settimanali Programmi settimanali Mille puntate 27 anni Di storia Di tradizioni Di spettacolo E adesso a proposito di questo Grazie a chi è qui con noi Per la festa della Santa Fameia Perché il 27 Che è venerdì Partiamo dalla nostra Maria Teresa Dottoressa Garavini Che si è anche lei messa In colori natalizi Accanto Accanto È invidiata Da tutte le donne Dello studio La Maurizio Tassani Il bel tenore Di Villa Franca Anche lui Si sono ritrovati Insieme Due Villa Franchini E lui Lui Emporio Scarpa Alceo Ravaoli Marcello Coppe e trofei Di Bagnacavallo E saltando La Velide Daniele Romagnol Coppe e prosciuti Di Cesena La Velide La Velide La voglio mettere insieme A Babbo Natale Perché io Una mamma così Me la porterei a casa Mi manca Velide Non solo pelle Con El Paso El Paso Che sembra più un cameriere Con i guanti bianchi Salutiamo il pubblico In modo particolare Chi viene da Granarolo E da Conselice La nostra Clementina Con Antonio Ed Elena Elena La bellissima e giovane Elena Che noi lanceremmo Per Miss Mondo O Miss Italia Se si potesse Saluto ovviamente Anche i nostri sponsor Che sono presenti Consorzio Agrario Adriatico Con il presidente Filippo Tramonti E il direttore Il nostro Adamo Zoffoli Saluto Oh c'è anche Carlo 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 Lo salutiamo È il marito Dalla dolcissima Roberta Il bigetto La visita di tutto il giardino Carlo Ammoniaci Bene Poi salutiamo I fiordalisi Con Simona E Simone Grazie I due ragazzi Mister Dario Della farina Soledoro Molino Partisani Di Forlì Salutiamo E dovrebbe Abitare con All'Ipero di Sevignano Lì vicino All'Ipero di Sevignano Abitare con E L'ho già detto La cantina Lì il direttore Sta perdendo dei colpi Cantina Lì ho finito Se ho dimenticato qualcuno Peccato Pazienza Sarà per un'altra volta Non finisce qui Di dietro La Yankour C'è Ah caro mio Bisogna Però i buttasò Li buttiamo giù Madonna Quanti è Il brodo bolle Siamo pronti Per i cappelletti Di Casa delle Aie Che è qui con noi Rappresentata La gestione Con Gianni Che è lui E Carlo Battistini Insieme allo staff In management Renato Lombardi Presidente Silvano Stella Vicepresidente E il signor Franco Gianfranco Zavalloni Consigliere D'amministrazione E la signora Daniela Che Li fa sfigurare tutti Per bellezza Ed eleganza Anna Galletti Della Galletti e Boston Edizione Musicali di Faenza Che è qui con noi Ancora per questa puntata Nell'estrema punto Quaggiù Presepi Nella Rocca Presepe In piazza E Presepe Animato A Becchiazzano Con Andrea Donori E Franco Che c'è Spianati Spianati Perché il Natale È già passato Saremo in attesa Di vedere Adesso Adesso Voglio finire in bellezza Con gli amici di Ravenna Mario Cavina E Gli antichi mestieri La Robin Snee Oggi invece ha fatto La Robin Grande Mi dispiace Ma non ha rispettato Il detto La Robin Snee Cosa che invece Mi piace chiudere Perché si dice sempre Dulcis In fundo No in fondo In fundo In latino Dulcis In fundo Abbiamo il nostro Roberto Rambaldi Gran Caffè Novecento Di Castro Caro Che ci ha portato Dieci tipi di panettoni La gente non ha resistito Ormai lo fanno fare tutto Prima dei capelletti Che non si È una bestemmia Dal punto di vista Gastronome Però La tentazione Dei panettoni E delle torte E dei salatini E dei cappuccini Che ci sono A Castro Caro E' una roba Imperdibile Bella come il sole L'orchestra Castellina Pasi E lei La voce Lo devo dire Per Dunque Cara Elena Per poter presentare Questo brano Devo dirti Che mi chiedono spesso Dov'è che va Fa fin In ferie Lui ha detto Che va In Spagna A Madrid Plaza de Toros Ristorante El Torero E racconta Vig in dreta Un fa E camarir Desidera Signore Ma ha specialità Della casa E lo Balotas De Toros Direttamente Dalla plassa Mattato Il Toro Cavate Balotas La fine Di un mondo Second anno Plassa De Toros Ristorante Del Torero Balotas Balotas De Toros Cinque anni Balotas De Toros Sesto anno Arrivo ai Deg Specialità Della casa Non mi portano due palline così Buone Buone Ma così Scusi Scusi cameriero Come mai Anni passati Balotas Così Quest'anno Baline così Non sempre vince Il Torero Signore Mamma Questo succede in Spagna Alle cinque della sera A Madrid Barcelona Toledo Granada E Granada Sia Anche il vestito Bello Vai Elena Camarone Orchestra Castellina Pasi Granada Tierra Soñada Por Mi cantar Se vuelve Gitano Quando è Per 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 Mi cantar Hecho De Fantasia Mi cantar Flor De Melancolìa Che io Che vengo Che vengo En rugo De l'olos Moros De sueño Rebelde Gitana Cubierta De flores E beso E beso Tu boca De grana Jugosa Manzana Che me Habla De amor Ranada Ranata Ranata Manzana Manzana Encantata In coplas Preciosa che tengo otra cosa che darte che un ramo di rosa che rosa di suave fragianza che le diera un marco alla virghe morena ranara tu terra è piena di lindasi nubes di sangra e di sol di rosa di suave fragianza che le diera un marco alla virghe morena ranara tu terra è piena di lindasi nubes di sangra e di sol grazie a Elena de Castiglia orchestra Castellina Pasi Elena Camarone e tutti i suoi ragazzi bravi complimenti e adesso visto avevo pensato di dire qualcun altro ma a me ho mai detto pensando al toro il toro c'era un coniglio che gli passava da sotto e gli rideva in faccia e passeva da sotto e rideva in tua faccia e il toro sbuffeva e sbuffeva alla fine favo scusa un po' cosa ridi? io con due coglioni così le corna le facevo portare a un altro e le corna diciamo ancora questo che è un detto del mio nonno le corna sono come i denti fanno un po' male quando spuntano ma poi ti aiutano a mangiare perché? buon appetito colonnello sei ad adesso? adesso è la pubblicità a treb è offerto da la commerciale agricola di Billy Giovanni S.p.a sede di Forlì via Dragoni 114 filiali Rimini Fano Moschini, Pierotti e Pratesi S.r.l Piazza Falcone e Borsellino 1 Forlì Albonetti Alfio e Andrea Casa del Tosaerba a Derrano di Faenza albonetti snc.com autospurgo forlivese via tomba 81 barra a Forlì autospurgo forlivese.com regalare il sale dolce di Cervia fa bene alla natura acquistando i prodotti della salina aiuti il suo ecosistema bene allora io chiedo scusa a Mario all'amico del presepe però mi hanno detto che Maria e Giuseppe volevano i capelletti e allora io ho detto perché vuoi far mancare in una notte così importante i capelletti buoni di casa delle aie ma lei ne buttiamo giù facciamo di questi sono per Giuseppe Gesù e Maria e tu direi io intanto vado mentre loro vengono su e lei butta giù io ma ma oh avanti da Mario fa fare la curva allora chi abbiamo qui in quest'angolo Anna la facciamo per dare lo stop sì lei deve lavorare perché adesso Gesù bambino sta crescendo Gesù bambino sta crescendo e impara e impara a vedere il babbo che lavora e poi dopo comincerà anche lui chi viene adesso a salutare la Sacra Famiglia che oggi fa festa i pastori che portano i doni a Gesù prima di tutti i bambini chi è questo bambino? Alberto Alberto che suona il pifaro il flauto lo suffolo vai avanti Enrico Maria Enrico Maria ha portato il vino il vino la Matelda ha portato il pane la Matelda che abbiamo appena salutato Gaetano che passa davanti e saluta Gaetano non lascia niente perché le rabbino non lascia niente egli uguali saluta un po' di legna per il fuoco per riscaldare il bambino di vino la Bruna il bucato per i pannolini perché Gesù usa i pannolini come si diceva la Libiana la frutta il melograno che è segno di benedizione la frutta la domenica anche lei la frutta e poi arriva un altro pastore chi è questo frutto qui? un pastore che saluta Gesù e lui è un corridore lui era in giro a correre per i prati di Betlemme ha saputo che c'era Gesù con la chicca è venuto a rendere omaggio a questa mentre i mestieri i mestieri che abbiamo visto abbiamo la gremolatura del pane abbiamo cominciamo di qui qua di dietro la mamma della Madonna che fila la lana la lana che fila Gabriella la lana la nonna la nonna di Gesù e poi abbiamo la Lella la zia Lella la zia Lella la moglie del pastore che corre esatto con un telaio verticale che fa un tessuto un tappetino perché poi davanti al re del cielo un tappetino ci starebbe bene ci sta bene come mai che avete preso un soldato così grosso che è alto che non ci sta dentro la capanna è alto doveva fare la guardia fuori dalla capanna perché ormai la capanna era già abitata ecco da piccolino Gesù che cresceva San Giuseppe come si chiama il centurione? ecco qua Loris 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 e l'altro invece è Caporione? qua è Vasco Vasco è mio cugino ah mi vedi cugino anche a Forlì? anche a Forlì ma guarda un po' e poi l'ultimo centurione l'ultimo è il giovane Matteo 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 l'amoroso Matteo è palestinese è un gran ballerino viene su proprio tutta la famiglia ballerino cosa ballano là giù? ballano con lui il lissio il lissio il lissio ma tre me ma allora e poi via via tutti gli altri da Betlemme sognando la Cadelliscio salutiamo Mario Cavina la Robin Sni in questa bella sonografia dove tutte le famiglie dei pastori e dei mestieri artigiani di una volta hanno reso omaggio al bambino Gesù chiamo anche il numero di telefono 05 44 se volete chiamare 05 44 40 27 09 la Robin Sni antichi mestieri presepi viventi e i misteri del rosario per Pasqua in maggio in maggio in maggio a San Rocco a Ravenna è una cosa bellissima bene grazie e adesso vado a salutare il mio amico Alceo da 75 anni aveva voglia di fare invece ha cominciato subito dopo Emporio Scarpa da quanti anni siamo sul mercato caro Ravaio? adesso al 2014 sono 60 anni 60 anni che esiste la ditta Ravaiole ed ancora in furia penso che siamo l'attività più vecchia che ci è rimasta fuori qualità e prezzo non teme confronti moda, qualità, convenienza e poi oltre alla moda anche come dico sempre scarpe utili scarpe quotidiane come è andato nel 2013? per i vostri acquisti i vostri regali è andato bene il 2014 cosa devi dire alla gente? il 2014 ci siamo sempre veniteci a trovare perché abbiamo tante cose interessanti e soprattutto la qualità io ci tengo a dire la qualità perché i vostri piedi sono importanti mettete delle scarpe di qualità ci sono due momenti che sono importanti sì, sì un buon letto un buon paio di scarpe che quando non sei nel primo sei dentro nel secondo però se andate a letto con le scarpe è meglio sì e voglio fare un augurio speciale a tutti agli amici, parenti, clienti alla città, la campagna all'Emilia Romagna a tutte le persone buon oneste buon Natale buone feste che poesie guarda che Giovanni Pascoli sta tremando nella tomba sta tremando vi aspetto a tutti grazie a Ravaioli e adesso prima di passare alla cucina che vorrei finire con la cucina io vado da Andrea e Franco per una passatina veloce parto da Franco perché forse è rimasto qualcosa da dire su Vecchiazzano Vecchiazzano il presepe è animato una catechesi biblica quindi proprio comacista Gesù figlio di Davide Gesù figlio di Davide ogni anno in base al tema raccontato vengono costruite animazioni 12 minuti di catechesi quest'anno 12 minuti 7 scene siete aperti sempre quando è aperta la chiesa esatto proprio consigliamo di venire fra settimana perché i giorni di festa è una processione esatto c'è tantissima gente bene passiamo ad Andrea Andrea invece presepe in piazza presepe in piazza e 24esima rassegna presepi nella Rocca 24 anni ininterrotti vi aspettiamo 85 presepi e con oltre 40 quadri di pittura natalistia presepi realizzati in tutti i materiali dalla noce al grande presepe con l'estate di oltre un metro quindi ce n'è per tutti i gusti bambini bene fino al 12 fino al 12 gennaio grazie anche per il presepe che ci avete prestato per le nostre trasmissioni allora qui siamo nella casa delle aie io adesso vorrei parlare Renato come li hai ancora sentiti è tradizione questa di avere sempre alla tua portata i nostri capelletti li abbiamo già tirati su Marilena sono pronti e io vorrei il primo piatto quando sono pronti perché io sono il padrone di casa e mi tocca assaggiarli per primo allora cosa c'è di nuovo nel 2014 sono squisiti per quello che riguarda la casa delle aie oltre alle offerte gastronomiche ovviamente c'è l'ampio programma di iniziative che realizziamo nel teatrino della casa delle aie eccomi perché vicino a questo edificio storico c'è una struttura che viene animata tutti i venerdì sera che fa il signore salvo una breve pausa durante le festività natalizie da novembre fino ad aprile e in questo caso noi riprenderemo il 10 di gennaio abbiamo 20 appuntamenti culturali e presentiamo dei momenti spettacolari dei momenti di approfondimento culturale dei momenti legati al dialetto alle tradizioni alla gastronomia e all'ambiente anche di Cervi e della nostra terra ti fermo perché entriamo nel dettaglio nel prossimo appuntamento daremo per filo e per segno che cosa vi aspetta insieme al nostro vicepresidente io intanto però chiederei a lui che il microfono ce l'ha già alla casa delle aie si mangiano solo i cappelletti? no assolutamente no perché se no ecco si mangia di tutto e di più si mangia sfoglia fatta in casa dalla Marilena assolutamente fatta a mano dalla Marilena ma sono tante le nostre sfogline lei è quella che rappresenta proprio la sdora una cappa si vede si vede le altre sono magrine magrine non rendono le tenete chiusi nascoste la di dietro basta che lavorino però cosa avete di buono in menù? allora noi facciamo cose tipiche romagnole facciamo un mangiare tipico romagnolo che tra l'altro è un mangiare che non è deciso esclusivamente da noi è deciso in collaborazione con l'associazione culturale ma gli avete messo dei paletti diciamo che la tradizione è rispettata proprio nei minimi dettagli perché loro vogliono che qui si mangi come si mangiava una volta in Romagna il ragù il ragù romagnolo fatto come si faceva una volta la pasta e fagioli con i fagioli freschi fatti ammollati preparati la sera prima cucinati con la cotica l'inverno fate pasta e fagioli a finestre chiuse certo abbiamo del coraggio abbiamo del coraggio poi facciamo poi facciamo non so il coniglio al forno come si faceva una volta facciamo beh a parte che adesso voi qui vedete solo i capelletti ma noi facciamo anche gli strozzapreti le tagliatelle e poi questi qui i tedeschi cosa preferiscono che quando vengono d'estate che per loro allora i tedeschi mangiano cose che invece i romagnoli non apprezzano molto lo squacquerone con i fichi caramellati che i fichi caramellati è una cosa anche questa tipica romagnola e loro vanno giù di testa dammi a me che mi ha detto di avolo a loro piace tantissimo allora io non ho finito i dolci ma ma signora che tasse allora a parte la ciambella romagnola vabbè quello è un classico e poi la zuppa inglese la zuppa inglese la zuppa inglese ecco te sai anche le ricette di questa roba certo come no certo prova ad annunciare beh questa ve lo dice lei ve lo dice lei che lei vieni datemi un micro fammi morire che lei è una bravissima sfoglina è anche una bravissima pasticcera e la fa lei la fa lei la zuppa inglese ti porta via il posto la zuppa inglese te la fai la zuppa inglese assolutamente assolutamente sì vediamo se è più buona la tua marina bisognerebbe assaggiarla vabbè ma però quest'altra volta dai te la facciamo portare cosa c'è cosa ci va si fa la crema la crema pasticcera che è fatta con farina uova latte e zucchero piccolo segreto mio metto anche un po' di panna liquida così viene più buona perché non vuoi dire che adesso Roberto Coppia il rosoglio ci va sì viene bagnato un pan di spagna si viene fatto uno strato di crema al cioccolato uno strato di pan di spagna le porzioni le porzioni sono abbondanti sì assolutamente no no sono abbondantissime va finito con la crema gialla e poi sopra ci vanno i cammini con la crema di cioccolato va bene grazie alla casa delle ae mi scuso un attimo Renato dopo te preparati insieme ai tuoi uomini parliamo di cultura perché non posso mangiare la vita Roberto voi sapete la shop inglese te ci metti la panna te la crema pasticcera 20% di panna latte intero e va bene tutto quello che ha detto lei va benissimo va benissimo l'importante l'importante è che rimanga la scorza di limone ce la metti te lucida e setosa lucida e setosa assolutamente è come quello il colonnello ha scritto a Babbo Natale e gli ha detto Babbo Natale per quest'anno mandami un fisico asciutto e un conto in banca esuberante non sbagliarti come hai fatto anno scorso non mi ha fatto niente bravo colonnello venga qui non abbiamo finito lei deve dire una poesia davanti a Gesù Bambino faccia finta ritorniamo bambini si tolga il cappello ritorna a 5 anni quando le danno gli scappaccioni di la poesia di la poesia avanti mi devo concentrare silenzio silenzio il momento è magico da bambino lo dico ma certo tutti vanno alla cappanna per vedere cosa c'è c'è un bambino che fa la nanna fra le braccia e dalla mamma San Giuseppe poverello sta tizzando il fuocarello per scaldare il cuore piccino di quei fiori di bambini buon Natale tutti i bambini come me buon Natale un bacino bravo c'è l'ora te a treb è offerto da marcello coppe e trofei tutto per premiazioni sportive via san vitale bagna cavallo molino villa romiti le farine a chilometri zero per tutti gli usi in cucina a fordivi a firenze 57 nei migliori punti vendita le macine a fordivi a l'italia 111 e cenoteca viale italia 113 il piacere della buona tavola da mobile shop a fordivi per rinnovo totale collezioni su tutto l'arredamento esposto sconti fino al 60% fratelli giorgi dal tetto in giù fratelli giorgi esegue smaltimento ethernet e bonifica su ogni tipo di tetto si eccoci qua bene siamo ritornati in studio e ve l'avevo detto e ve l'avevo promesso e io sono un uomo di parola Maurizio Tassani tenore è ancora qui ha telefonato il Papa per complimentarsi con te e adesso e adesso ascoltiamo un altro bel brano natalizie per creare questo clima Maurizio Tassani non fa solo brani natalisti dalla lirica alla grande canzone italiana da nessun dorma finì giù che tu ti svegli anche e il titolo di questo bel brano che ci regala è Bianco Natale il colonnello se dicesse che c'era neve sarebbe proprio la cosa giusta Bianco Natale Maurizio Tassani Bianco Natale I'm dreaming of a white Christmas just like the ones I used to know where the treetops where the treetops glisten and children listen to hear slaver's hither slow I'm dreaming of a white Christmas with every Christmas with every Christmas card I write may all day be merry and bright may all your Christmas be white be ones be white be white be white be white degrees Più neve scende ancora, tu dici nel cadere, neve, il cielo devi ringraziare. Alza gli occhi, guarda lassù, vera tale non soffrire più, più, non soffrire più. Maurizio Tassani live, la fulmine del lampadino, ma grande Maurizio Tassani, auguri, grazie, Maurizio veramente e adesso Daniele e Rumagnol, ci dispiace per quelli che questa caratteristica la ritengono, noi invece siamo orgogliosi di questa qualifica, Daniele e Rumagnol che ti sei spostato da un po' nella zona bella di Cesena. La zona in? In, che è? La zona Rigoni, quindi il posto più bello di Cesena. Rigoni è un cognome, non è una roba striscia, lo diciamo. A Rigoni. Dove c'era la famosa fabbrica di conserve. Di conserve. E qui in questo negozio la gente, che tu vuoi ringraziare e salutare, ti chiedo quanta ne è venuta nel 2013. Ma una cosa enorme, veramente. E soprattutto in merito anche di questa trasmissione, perché questa trasmissione è una famiglia e io me ne accorgo che la gente sta riscoprendo i valori della famiglia, quindi fa il pranzo a casa sua, poi capisce che facendo a casa, non me ne volga i ristoranti che ne ho tantissimi o di clienti. Che vengono a fare la spesa di te. Ecco, però, capito, in casa è tutta un'altra musica. Tutta un'altra musica. Allora, adesso diciamo così, che la tua caratteristica è che tu ti fai tutto da solo, a parte il latte che te lo dà la centrale del latte e il vino che te lo dà la cantina. La cantina. Quello che è carne, ce lo facciamo da soli. I ciccioli, per esempio, una bella scarniera. Qui queste gras. Sono eccezionali, veramente. Sono di quelle cose che, io dico sempre, mangiatele, mangiatele con moderazione e soprattutto Come con moderazione? No, con moderazione. L'ho pensato in giù la gardella. Il cicciolo può anche far male, però, diciamo così. L'agnello, l'agnello. Tutti i tipi di carne fanno bene. Io dico sempre, abbandonatevi ai piaceri della carne, perché... Anche se il prete non è d'accordo, però... Sì, il mio parroco non è molto d'accordo, però... La carne la mangia anche voi. La carne è meglio mangiare, è meglio distribuire. Comunque, faccio tanti auguri a tutti e soprattutto ringrazio ancora Videoregione che ci dà l'opportunità di presentarmi in tutte le vostre case. Il 2014, chi non è mai stato da Daniele Rumagnol e non ci va, peste lo colga. Sì, deve venire, deve venirci a trovare. E poi, chiudo in bellezza, voglio ricordare che chi mangia la carne a capodanno fa l'amore tutto l'anno. Oh, io, 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 io! Ma voi una successa! Anna, vieni qua, perché adesso io ti devo chiedere se tu mangi la carne tutto l'anno, perché... Eh? Va, sono domande indiscrete. È una domanda che non... Parliamo di Agatha, allora, via! Sì, molto meglio, anche perché io sono vegetariana. Ah, ma... Ah? È vegana, no, però? No, no, assolutamente. Quindi, anche io... Due bottine di prosciutto o di bresaola sottili, sì, però non sono pro bistecca. Mi dispiace per Daniele. Vabbè, ma d'altra parte ci si vede anche come sei ridotta, perché come se sei magra, spenta, che... Guarda, non ci usino che... Si aiuta la camera, non ne vanno più mai di dolci. La musica, lei campa di musica, di siae, di questi impegni. Allora, diciamo, Galletti Boston nel 2014 sarà orientata verso una promozione determinata della musica da ballo. Beh, questo da sempre. Noi continueremo a credere in questo genere musicale. Abbiamo tanta fiducia nelle orchestre, come questa di stasera, Castellina Pasi, che è cresciuta con noi e noi siamo cresciuti assieme a questa storica orchestra, ma assieme anche a tante altre, da Luca Bergamini, Roberta Cappelletti, Patrizia Ceccarelli, giusto per nominarne solo qualcuna, perché io le saluto veramente tutte, quelle che collaborano con noi e quelle anche ancora non collaborano con noi. Ma collaborerà. Pensiamo che la musica da ballo sia veramente qualcosa di aggregante, così come il cibo. Per cui se posso fare un augurio, lo faccio veramente a tutti voi, alla redazione, a Videoregione, ai telespettatori, alle persone qui presenti, che sia un Natale santo, di pace, d'amicizia e che sia un anno ricco di salute e di soddisfazioni sotto tutti i punti di vista e soprattutto all'insegna della romagnolità. Cerchiamo di riscoprirla. Ripeto, nel cibo abbiamo delle cose squisite, stasera ci sono dei profumi che sono eccezionali, ma anche in questa nostra bella musica, non vergogniamoci del liscio, ma anzi facciamone una bella bandiera per tutti noi per il 2014, che sia un anno all'insegna e anche del ballo. Bene, mangiamo musica. E buona anno a tutti. Bene, grazie all'Anna Galletti, dalla Galletti Bosto. Io intanto mi hanno dato i cappelletti, ma devo parlare di una cosa che mi sta particolarmente a cuore. Lei, colonnello, io non so se ha salute o se sta male. Io ho visto che la mia moglie Cesira comincia a sgambarellare un po' in qua e là. E ha sempre più bisogno di specialisti che unipassano la mutua. Il problema è di andare dallo specialista che vuole, per esempio, il ginecologo, abbiamo finito perché quello si è chiuso la bottega, però si sono aperte le vene varicose. Per esempio, lei ha una depilazione fluente. No, il più delle volte, quando non riusciamo, quando vai in bicicletta, lui va e peltra la catena e ci vieni. Voglio sapere, sei soddisfatta del Servizio Sanitario Nazionale te o no? Insomma, dai. L'ultima volta ci ha detto dei dottori, l'ortopedico, che mi ha detto che mi fanno male le osce, non le mangi. Ecco, appunto. Ah, ma c'era andato con la mutua, è per quello. Per esempio, il colonnello è andato da uno, qui ha detto, dottore, a me mi fanno male laggiù, quelli del toro, che scuriamo preme. E il dottore fa, faccia sentire. Qui bisogna operare. Come operare? Tagliare via. Ma il dottore, ma sì, ma... Ho cinquant'anni, allora, ma sono capimoroso, finì. Aspetta il momento che vado a sentire da un altro, faccia presto, perché qui batte in un mese. E va in Germania, da un professore dei coglioni, a me in Italia mi hanno detto che sarei da operare, e lo sentire. Questi dottori italiani, ha sempre operare, ha per fare quattrini. Qui non c'è bisogno di operare. Vengono da soli. E l'è rimasta questa roba. Ecco, io preme anche, voglio dire anche un'altra cosa. Questo non so se l'ho mai detto, ma mi è capitato, io ho un parente, che mi ha accontato, che la sua moglie si svegliava ogni tanto, che aveva una riga nera, nell'inguine, a qua, attraverso. Andava e veniva. Aveva girato gli specialisti dermatologi di adottichette. Nessuno glielo ha saputo spiegare. L'ha detto a Minguini? Che strucchera? No, il chiropratico. Il chiropratico. Bravo. Lui ha detto, mi scusi, ma il suo marito, cosa fa? Il falegname? Mi lo fa. Sì, perché? Ecco, gli dica che quando gli fa quel servizio, sciccavi la mattita dell'ureccia. Succhera, dai. Succhera. Pubblicità, pubblicità. Senza sale e senza grassi aggiunti è un marchio registrato dei fratelli Bassini. Chiedilo nei migliori negozi e supermercati della tua città. Mobili MB, Santa Marina Predappi o Forlì. Produzioni artigianali e su misura. Aperto anche la domenica pomeriggio. Centrale del Latte Cesena. Latte, formaggi, gelati di Romagna. La bontà che lascia traccia. FAM Batterie. Via Cardi 1 Meldola e nei negozi specializzati. FAM Batterie.it Bene, eccoci qua. Siamo ritornati in studio. Intanto diciamo che Nadel è sol, Pasqua è fugga. Le fredde per Pasqua. Per Nadel è livrott, per Pasqua è quiet. Quelli qua. Questi sono modi di dire e adesso andiamo invece in un paese dove la musica lo sentiamo subito. Abbiamo Bruno da Genova. Madonna da Genova. Complimenti Bruno. Tu lo sai che io sono stato a teatro a Genova una volta con mio fratello. Quando siamo usciti la moglie di mio fratello, mio fratello ha dato la mancia insomma, hai capito? A questo qua. Gli dai la mancia a lui e a me non mi dai i soldi. Sta sito. Non vedi il cappotto nuovo che mi ha dato? Perché aveva il problema che sono un pochino così. A Genova. Non è vero. Io sono stato a Carnevale, l'ho detto anche l'altra sera, a Carnevale a Genova, anicoriandoli con l'elastico. Però lui suona da Dio. La terrantella. Qui è Bruno da Genova con la sua fisarmonica. Musica, Bruno. Puccinello. Orchestra Castellina Pasi. Puccinello. Puccinello. Um器, voglio, fiume, 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 fiume. Ci risetta. Buona removed. C'è chi KYC questo trino in unstable con il 수 Suddenly get burst. Penso, ti risotto, mi vernice questoờ... Ave,III fermo, momento. Puccinello. Grazie a tutti. 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 Un libro che riguarda sia la cucina romagnola ma anche le tradizioni del Parco del Delta del Po. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. A Ferrara c'è il mare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Pubblicità, pubblicità. Grazie a tutti. 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 Abbiamo abbiamo abbiamo... Grazie a tutti. 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 Bene, bene. Grazie a tutti. 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 Tant'è... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Adesso la pubblicità. Grazie a tutti. 05-05-4-0-5-4-4-4-0-5-4-0-0-5-4-0-5-4. i sapienti del mondo che guardando il cielo e le stelle hanno capito che è successo qualcosa di unico e irripetibile nella storia. I tre remaggi capitanati da Melchiorre d'Oriente, il re dell'oro, eccolo qua, avanti Melchiorre. Il secondo dovrebbe essere Gaspare, Gaspare che porta l'incenso, avanti Gaspare una genuflessione che la dice lunga di questi re sapienti che consegnano e dopo Gaspare c'è Baldassarre che porta la mirra, che sarà profezia, questo profumo che era dedicato agli uomini e alle donne che venivano messe nel sepolcro, veniva usata la mirra ed è un preludio alla fine di questo condannato a morte, nato per morire, voluto dal padre per la salvezza di tutti. Allora, mentre salutiamo i remaggi ringraziamo Melchiorre, volevo parlare con Melchiorre, Melchiorre, gli chiediamo qualcosina perché lui, gli chiediamo da dove viene e perché è venuto, Melchiorre venga qua, venga qua Melchiorre, lei ha portato l'oro, lei da dove viene precisamente? E come località? Non da Forlì. Dalla Numidia? Ma miseria la Numidia, c'è del mare, dei monti, lì così è un po'. Certo, Melchiorre era il re di Numidia. Il re di Numidia. E l'altro invece è quello dove vi siete incontrati con Gaspare. E beh questo qua glielo chiede a loro. Ah, va bene. Allora, Melchiorre è furbo, lo salutiamo, ma comunque grazie di essere venuto, l'ha dimostrato, umiltà, sapienza e anche un po' di aggressività. Grazie. Grazie signor Melchiorre. Chiudiamo in bellezza con i nostri tre remaggi e Mario Cavina, che ringraziamo. Un arrivederci, a presto. I esari vedi. Ma non li ha visti che ha messo i doni lì? Ci sono messi in... Vuol venire anche lei che fa il quarto? Non siamo mica come i tre moschitieri che c'è il quarto d'Artagnan. Abbiamo già ringraziato loro l'incenso e la mirra. Ringraziamo Giuseppe e Maria. Gesù che ha sonno per me, ha sonno il bambino. Salutiamo tutti i figuranti, i mestieranti, i nostri militari, no? coloro che lavorano e grazie veramente di cuore per questo dono grande che hai fatto ad Atrebe in questo Natale. Sì, che mi è riuscito perché non l'avevo perché ero mai... Ormai i tuoi 77 anni cominciano a farti paura. Sì, sì, perché preparare sta un po' di roba non è facile. Bene, grazie. E adesso andiamo... Grazie a tutti, grazie. Da questa donna elegantissima che entra nelle case degli altri con una facilità che sconcerta. Certo, per vedere di risolvere, anzi raggiungere i sogni a tutte le persone che si rivolgono a noi. E quindi speriamo che il 2014 sia pieno di sogni per tutti, per noi e anche per tutti. Ma lei i sogni che realizza sono quelli della casa? Immobiliari. Sogni immobiliari, compra, vendita... Sì, perché le case sono dei sogni, no? E di attività anche. Sì, però principalmente appunto sono le case, perché sono l'angolo del focolare domestico. Il momento di crisi, spero, sperano tutti che stia passando, segnali buoni ce ne sono? Ci sono, ci sono, esatto. Infatti adesso speriamo che anche questo Natale sia rigenerante per tutti, in modo da riprendere tutti quanti poi con la ripresa dei lavori dopo la Befana. A lei il suo pubblico, il suo pubblico. Auguri a tutti, ai miei clienti, a quelli che lo diventeranno e chiaramente un buon anno per tutti e spero proprio per tutti. Allora, siccome lei si è preso un periodo di vacanza, non so se va a vendere alle 6 cell, alle Canarie degli appartamenti, io so che, insomma, lei va via un po' in vacanza. Per un po', lascio. Dove la troviamo noi, se per caso dovessimo aver bisogno di vendere e comprare? Se avete bisogno, ci trovate sempre in Viagram 632 e sul sito www.adessocasa.it e per un po' ci trovate solo lì. Qui io ringrazio tanto tutto lo staff. Un amore di donna, una grande manager che salutiamo adesso. Buon anno, buon anno. Bene, grazie. Allora, saluto il colonnello, grazie colonnello. Buon anno anche a lei. A tutti i palazzi. Noi ci vedremo qui il 2 di gennaio. Il 2, sì. 2 di gennaio, saluto la Cesira che come tutti i venerdì si sta preparando nel Borotalco. Buon Natale a tutti. Perché noi facciamo festa il venerdì. Abbiamo il sabato mattina davanti tutta la mattina. Sì, sì. Chi sa che, eh. Poi dopo ci hanno detto che mangiare la carne per tutto l'anno, a Capodanno, si fa l'amore per tutto l'anno. Allora faccio anch'io. Salutiamo gli sponsor. Quelli che ci sono e quelli che non ci sono. Quelli che stanno bene e quelli che stanno male. Un abbraccio a tutti con gli auguri più belli di un felice 2014 per voi, per le vostre aziende, per le vostre famiglie. Un grazie al pubblico che ci segue come sempre con passione, con simpatia, con fedeltà. Grazie anche. Saluto gli amici Chiara e Andrea con l'augurio che Kiban, questa cagnetta di nove mesi, torni presto a casa. Casa delle aie. Marilena la sfoglina. Salutiamo anche i nostri Gianni e Carlo Battistini con la signora Daniela dappertutto davanti. La mettiamo Renato Lombardi, Silvano Stella e il signor Gianfranco Zavalloni. Grazie. Consigliere. Salutiamo la signora Anna, Anna Galletti dalla Galletti Boston di Faenza. Salutiamo Andrea Donori e Franco Casadei che vi invitano rispettivamente alla Rocca di Ravaldino e nella Sano 90 Pacifici per la rossegna dei presepi e Franco alla parrocchia di Vecchiaziano vicino all'ospedale nuovo di Forlì per una grande catechesi su Gesù, figlio di Davide. Roberto Rambaldi, grande grazie per questi palettoni, grazie di esistere, per tutti quelli che amano le cose buone, belle e dolci della vita. Gran Caffè 900 a Castrocaro Terme. Grazie a Mario Cavina e alla sua famiglia, suoi ragazzi, la roba in Sni. Io, se c'è un microfono, c'è un microfono, ce l'ha già, andrei a parlare con questa meraviglia della natura che si chiama Elena Camarone. Ciao Elena, prima di tutto ti devo dire che tu mi stupissi, l'anno, gli anni, il tempo ti accarezzano, non ti lasciano segni, tu continui ad essere la regina di questa bella e grande orchestra che vorrei che tu mi presentassi. 3 e 3, 6, 7, 8 e 9 elementi. 9 più 1 barra 2 che sono giù dal palco, nel senso 1 è sempre giù dal palco perché è il nostro fonico. Comunque la formazione fissa, siamo noi 9, questi 8 ragazzi con me che vi vado a presentare, più a volte insomma comunque è una formazione un po' variabile. Però noi siamo i fissi. Il tuo accento dice che tu sei del centro Italia. Bravo, ma non sai di dove sono. Lazio. Io sono di Sezze Romano, latina, da 4 anni ormai felicemente vivo a Faenza, quindi sono una romagnola adottata. Adottata. Sì. E devo dire che ci sono tanto bene. Anche tanti romagnoli sono giù di là, eh. Io vengo tutti gli anni con mio fratello a Pomezzia perché c'è la festa dei romagnoli che abbiamo fatto la bonifica. Tanti abbiamo fatto bonificata proprio. Una bonificata. Grazie. E sei venuta in Italia a ringraziare. Ecco. Allora, partiamo da qui. Allora, li presento come li presento in serata, ok? Parto da Giacomo Baratti, lui viene da Ravarino, Modena, alla batteria. Modena, bravo. Poi, da Punta Marina, Ravenna, al basso, Gabriele Mastantono. Punta Marina. Da Bologna, alla chitarra, Gabriele Falchieri. Bugliais. Alle tastiere, da Bologna, Alessandro Cocchi. Ehi, da Bulegni. Da Imola, alla tromba, Marzio Marzocchi. Da Ferrara, Saxe Clarino, Michele Felloni. Felloni? Ma come il nostro passatore, Stefano Felloni. Lo sai che ogni volta, infatti, che sento quel valse, quando becco qualche canale, che c'è un revival di grandi... Via di Stefano Felloni. Di Stefano Felloni. Io penso sempre a Michele. Chiamato il... Max. Bravo. Da Rovigo, Max. Rovigo, Rodigotto. Oh, signor Mandela, Rovigotto. E invece la nostra grande, grande Elena... Eh, aspetta. No, c'è il bobo Genova, ce lo dimentichavamo. Volevamo risparmiare anche noi il tempo. Sì, volevamo alto, volevamo alto. Da Genova, Bruno Vischi, alle disarmoniche. Tromba. Tromba anche, sì, nel senso... Vero? Quando capita. Bene, allora, com'è andato il 2013? Il 2013, guarda, mi trovi che proprio oggi ho fatto ringraziamento a tutti questi ragazzi, anche su internet, perché adesso, vedi, Giuseppe, ci sono tutti questi modi anche tecnologici. Allora, ho ringraziato proprio tutti quanti loro per la loro grinta, per la loro passione e per tutto l'impegno che hanno messo, insomma, per quest'anno, che è la prima di fare. L'abbiamo già detto prima, c'è crisi, insomma, è stato un anno lungo, faticoso, però sono stati bravissimi e i risultati, i frutti ci sono stati alla grande. Bene, speriamo che così sia il 2014, grazie al loro rinnovato e determinato impegno. Speriamo sempre in meglio. Bene, brava, grazie. Siccome lei ha parlato di internet, noi ci siamo. No, noi andiamo in onda quando non è Natale, quando è, al giovedì sera alle 20.45 e il venerdì sera sempre alle 20.45, la domenica in replica dalle 9 a mezzogiorno. Siamo anche in streaming, YouTube, on demand e dopo tutto. Quando c'è Canale 5 che piange e Rai che piange, vuol dire che siamo in onda noi, perché non li guarda nessuno. E allora, mentre noi vi ricordiamo che siamo la vostra compagnia, vi ricordiamo ancora Buon Natale passato, Buon anno che sta per arrivare, chiudiamo in bellezza con la voce mista. Di Elena Camarone, Mix di Max, insieme, Mix di Max, ci cantano Miele, una canzone degli anni 70, lo cantava un complesso in cui suonava e cantava anche il coronello, Il giardino dei semplici. Signore e signori, a quest'altra settimana, Miele a Trebb è la vostra compagnia. Grazie. Grazie. Ciao. Bicofono, me lo dai, ok. Miele Bicofono, me lo dai, ok. Bicofono, me lo dai, ok. Miele, le nostre fughe, e si tornava lenti come tartarughe. Miele, quella sera che inventai il tuo nome, si accadevano le prime stelle. Miele, come riferla, e l'estate ancora sa di miele, anche se io senza te, sto male. E con me, sto un'altra e potrei far l'amore, ma non è miele. Miele, quale treno prenderai, quando arrivi chiamami se puoi, dei nostri corpi addormentati sotto il sole. Forse lì mi innamorai, sulle tue labbra, c'era un sapore che non ho scordato mai. Miele, quale treno prenderai, quando arrivi chiamami se puoi. Cos'è cambiato, forse colpa degli esami, forse lì mi innamorai, quando hai detto scusa mi è finita, e cadevano le prime stelle. Mi è come riferla, e l'estate ancora sa di miele, anche se io senza te, sto male con me. Se un'altra e potrei far l'amore, ma non è miele. Sto male con me, c'è un'altra e potrei far l'amore, ma non è miele. 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 Ma non è miele.